buongiorno hallo Ale e Susanne, so se ho eschiette scuut have a good day all of you, wish you a beautiful day all of you so today is Monday and I'm very happy to introduce you the third week of daily routine challenge si ragazzi, siamo alla terza settimana della day routine challenge non siete contenti? siamo arrivati quasi alla fine siete tutte dentro contenti? state resistendo? siete glücklichi ma dran e begeistert con questa reise per questa tre woche reise questa è la terza volta vi facciamo l'erzo lasciamoci un po' di quattro lasciamoci un po' di quattro lasciamoci un po' di quattro beveghi workout senza parlare troppo let's start with our three moves three exercise workout today dedicated to the leg oggi lavoriamo le gambe bene arbeis vi fanno i middle link e bene andiamo davanti il lunge e dietro e avanti e dietro se volete ampliare aumentare l'intensità dell'esercizio possiamo aggiungere anche le braccia if you want you can also use your arms to make the exercise a bit more heavy wenn ihr möchte auch mit den Armen spürt wirklich ten bauchmuscolatur is that keep we gehen in launch immer kniegebeug up und nochmal weiter so continuate ragazze con le braccia se volete ultimi tre due uno stop cambio gamba bello caldino vai ragazze e uno come va ragazzi ci siamo mamma mia l'ultima settimana sono volate queste tre settimane o no siete riuscite a stare dietro a tutti gli impegni presi quali sono gli impegni che volete portare avanti e quali sono quelli che invece non vi soddisfano come va ragazze habt ihr geschafft alle durchzumachen wie er euch vorgestellt hat did you make to take care to repeat every day what you put on the list of your daily routine what you want to keep what you want to eliminate what was good and what was bad was war gut was war nicht gut was möchtet ihr behalten und was möchtet ihr entfernen von eurer liste letzte stop stop oh i'm just talking to don't think about parlo cosino in chip so caminate rilasciate le gambe oh se pensi credo di pepe oh meine gute wenn ich denke dass ich muss das wiederholen noch einmal aber wir sind ein kick wir sind zusammen es ist schön we do that pronta ragazze 3 2 1 vai forza ragazze vai schiena dritta spalle rilassate rücken grade schulter relaxed spine nice and straight and shoulder relaxed relax your shoulder ancora ragazze vai up with the elbows forza su con i gomiti ancora vai forza ragazze gli ultimi 3 2 1 stop oh oh mio dio he's burning change the leg cambio la gamba pronte 3 2 1 vai ragazze 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 9 10 9 10 10 10 Forza, ultimi, 3, 2, 1, let them all, stop! I like this pain, this pain is good, it's a good pain, so, my microphone is almost without button, you need to hurry up, so, let's keep doing, let me see if I have still a little bit, yeah, still working, but I hope you hear my voice, so, let's do next exercise, so, next exercise is just open, close, open, close, really simple, open, close, open, close, but up, up, slit, up, slit, up, slit, up, ancora, vai, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ancora, vai, ancora, 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 forza ragazze, resisto, keep doing it, stay with your knees bent, knees in the voice, vai caso, vai caso, ancora vai, keep doing it, don't stop, don't stop, don't stop, last, three, two, one, and stop, mamma mia, mamma mia, but today we go really like bam, 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 eh, we go super fast, we go all through each other, we go all the way, 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 let's see, we go all the way, we go all the way, we go all the way, let's see, up, start to, they have back your hands, four, foot, aỏ, forza ragazze spalle dritte schiena dritta ancora vai gli ultimi vai let's gli ultimi 4 3 2 stop visit in house come è? brucia brucia sono 9 minuti 9 minuti insieme 9 minuti insieme e l'ultimo esercizio altre due ripetizioni ed è finito il nostro lunedì andiamo a terra ci mettiamo su un fianco con il ginocchio appoggiato a terra la mano il braccio sinistro lungo disteso il braccio destro e la gamba destra distesa a terra no scusate gamba sinistra distesa a terra e braccio destro appoggiato sul pavimento da qui andiamo su e tocco su e tocco vai in giro in giro in giro all bogen ohne den fuß auf den boden zu fassen wenn ihr möchtet ein bisschen schwieriger machen ihr könnt den fußflex haben das ist noch ein bisschen härter forza ragazzi forza ragazzi forza ragazzi ci siamo piede a martello così è il gluteo anche bello contratto gli ultimi 3 2 1 stop uh passo sul lato sinistro vai ragazze prima di strecciarci un po' pronti 3 2 1 via molto bene ragazzi vai state andando alla grande last exercise last exercise vai forza gli ultimi 4 4 3 2 l'ultimo e streccio un pochino il gluteo ci rilassiamo scarichiamo per qualche secondo lo abbiamo veramente meritato we really deserve it to relax some minutes some seconds das habt ihr richtig so gut gemacht das paar seconden ein bisschen relax habt ihr richtig verdient sehr schön und aber jetzt letzte wiederholo ultima ripetizione ragazzi anche per oggi abbiamo finito siete bravissime vai senza piangere lo facciamo per noi no parte allora con energia con divertimento das ist alles für uns ihr habt euch entschieden nicht ich ihr habt euch entschieden nicht ich parte ragazze parte ragazze vai 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 ancora 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 e forza forza ragazzo ci siamo forza ragazzo ci siamo gli ultimi due l'ultimo ah change ultima ripetizione ragazzi ihr seid großartig wir machen richtig krass gut forza ci siamo è l'ultimo ci siamo gli ultimi 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 gli ultimi 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 promesso promesso vai 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 ultimi ultimi stop stop yes alles ist so hart wie stein mal popo everything oh look guardate che sudata guardate guardate che sudata guardate che sudata miga solo voglia anche io guarda guarda guardate eh nicht nur ihr ich auch schau 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 schweizze überall aber es war sehr schön und ich hoffe es hat euch auch Spaß gemacht mir hat es Spaß gemacht mit ois i enjoy a lot with you in this session because i was feeling your company and this motivate me even more to get to the end mi sono divertita perché sentivo il vostro calore e la vostra il vostro spirito nel portare a termine questa sessione grazie buona giornata ci vediamo domani ciao